Naughty Dog è sinonimo di giochi mostruosamente curati, emozionanti e divertenti. Il team californiano non ha mai sbagliato un colpo, ma con The Last of Us parte 2 ha alzato notevolmente il tiro promettendo di regalarci l'avventura più indimenticabile di sempre. Ormai lo sanno anche i sassi, da oltre una settimana tutte le redazioni del mondo stanno giocando a The Last of Us parte 2. Sony e Naughty Dog hanno voluto dare ai giornalisti e critici tutto il tempo per gustare appieno e successivamente metabolizzare uno dei sequel più attesi nella storia dei videogiochi. Per conoscerne tutti i dettagli dovrete attendere ancora un po', ma nel frattempo ci è stata concessa l'opportunità di regalarvi un primo assaggio di questo progetto rischiosissimo ma al tempo stesso spaventosamente affascinante. In questa sede non ci è concesso parlarvi dei dettagli della trama, ma una prima infarinatura di ciò che vi aspetta è necessaria. Sono passati 5 anni dagli eventi narrati in The Last of Us. Il mondo non si è risanato, forse ancora più malato di prima. Sono gli equilibri ad essere cambiati, gli infetti sono ancora la razza più feroce e pericolosa, ma l'uomo sta facendo di tutto per riprendersi questo primato. Ognuno ha le proprie motivazioni per prevalere sugli altri, per affermare il proprio credo e tentare di diventare la nuova specie dominante. In questo panorama si muove Ellie, giovane ragazza, diventata donna troppo presto e nei modi più sbagliati. Trovato il suo equilibrio, addirittura l'amore sembra affacciarsi alla sua porta e gli eventi passati hanno trovato il loro giusto posto nel suo cuore. Ora vive insieme a persone che può finalmente considerare amici, con i quali condivide una quotidianità fatta di pensieri, timori, ricordi tristi, ma anche di momenti leggeri. Come sempre i momenti in cui tutto sembra andare bene sono quelli che precedono il crollo totale della situazione. Ed è proprio un evento squassante a rimettere Ellie in viaggio verso una nuova meta, un nuovo obiettivo. Naughty Dog ci ha autorizzati a concentrare la nostra attenzione in questa anteprima su un'unica sezione, collocata all'incirca a metà del gioco, ambientata a Seattle, una città che da sola ha più o meno l'estensione di buona parte dell'intero primo capitolo. Se il gioco precedente vi sembrava incredibilmente curato sotto tutti i punti di vista, rimarrete letteralmente basiti nello scoprire a che livelli sono arrivati gli sviluppatori in questo sequel. Uno degli obiettivi principali, fin dalle prime fasi di progettazione, è stato quello di fornire al giocatore una maggiore varietà in ogni ambito del gioco, permettendogli di muoversi con più libertà e di scegliere la sequenza con cui portare a termine ogni obiettivo. Per riuscirci è stato necessario allargare non poco l'estensione degli scenari che si presentano ora come dei mini open world liberamente esplorabili. Ricordate i livelli della savana di Uncharted 4 e dei tempri di Uncharted L'erede Appreduta? I ragazzi di Neil Druckmann hanno fatto tesoro dell'esperienza accumulata con quei due titoli e l'hanno fatta esplodere verso nuove e ancora più incredibili direzioni. Esplorazione, sopravvivenza e combattimenti assurgono nuove vette di eccellenza grazie ad un level design sviluppato in tutte le direzioni possibili. Quasi sempre avrete a disposizione almeno un paio di modi per raggiungere lo stesso punto e spesso uno dei due sarà lievemente più sicuro dell'altro. In una delle sezioni di Seattle, Ellie è alla ricerca di qualcuno, davanti a sé ha una città collassata che nasconde in ogni angolo possibilità di morte ma al tempo stesso opportunità di sopravvivenza. La percorrenza in linea retta non è contemplata nel mondo di The Last of Us Part 2. Che sia a piedi, a cavallo o a bordo di una piccola imbarcazione a motore sarete voi a muovervi nelle direzioni che preferite e a decidere cosa fare e spesso se un passaggio appare precluso sarete voi a doverlo creare. Occhio però a dove mettete i piedi e al rumore che farete perché i pericoli che vi attendono saranno molto più infidi che in passato. Molte delle sezioni del gioco possono essere superate senza ricorrere alle armi ma non esiste un approccio giusto o sbagliato. The Last of Us Part 2 si adatterà alle vostre scelte vomitandovi addosso i pericoli e le ricompense che meritate. Sembrano lontani i tempi in cui Ellie non sapeva neanche nuotare e premeva un grilletto con mano tremolante. In The Last of Us Part 2 troverete una protagonista non solo cresciuta e maturata ma anche estremamente risoluta. Conosce le armi a menadito, sa modificarle come un armaiolo professionista e utilizza perfettamente le tecniche di caccia. Le esperienze passate l'hanno forgiata come il buon acciaio e stavolta sarà lei a caricarsi sulle spalle i destini di altre persone. Accanto a lei ritroverete volti noti e incontrerete facce nuove che completeranno quel quadro iniziato ormai la bellezza di sette anni fa. Soprattutto scoprirete un mondo che nel primo gioco è stato solo lievemente tratteggiato, ma che in questo seguito offrirà a lei e a noi l'opportunità di vivere uno spettro di emozioni che forse mai prima d'ora erano state inserite in così grande numero e con così tanta potenza in un videogioco. La storia e lo spazio a nostra disposizione finisce qui, per ora. Questo non è ancora il tempo dei giudizi. Questo è il tempo dell'attesa, quella fremente e bruciante. Sfruttatelo al meglio, magari ripassando un po' di storia con una seconda o una terza run al primo The Last of Us e al suo imprescindibile DLC Left Behind. Rinfrescandovi la memoria potrete godervi al meglio tutte le sfumature emozionali che vi attendono in questo secondo capitolo.